La Policentro sarà costruita nonostante il clima che si respira nelle ultime settimane a Partinico. A dichiararlo è Lino Iemi, presidente della società Policentro Daunia, che annuncia i prossimi passaggi per la costruzione del megacentro commerciale in Contrada Margi. L'inizio dei lavori di urbanizzazione sono programmati che iniziano non prima di maggio e non dopo giugno del 2011. E l'inizio della costruzione vera e propria del centro commerciale ottobre 2011. L'inaugurazione del centro commerciale e dell'autot esattamente ottobre 2013. Questi sono i programmi i quali per essere confermati hanno solo bisogno in questo momento di una conferma dei finanziamenti bancari che stiamo trattando. Abbiamo lasciato proprio questi mesi come riserva per lasciare il tempo a chi si sta occupando di questo di arrivare a una conclusione positiva che sembra esserci malgrado tutti i terremoti che stanno succedendo su quella parte lì. Ma io credo che ce la facciamo e stringendo i denti anche questa volta usciremo da questo momento difficile. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.